Buongiorno, bentrovati con Mattino 6, la nostra rassegna stampa per leggere le notizie principali dei quotidiani che trovate già in edicola, sia quotidiani e locali, a cui daremo ovviamente lo spazio più ampio, ma anche le prime pagine delle testate nazionali e sportive. Questa mattina però iniziamo in maniera un po' diversa. Iniziamo dal web, perché purtroppo, notizia di ieri sera, il terremoto a Dischia, una scossa di magnitudo 4 e poi qualcosa come 14 repliche in campagna. Purtroppo, come vediamo dal sito web di Repubblica, sono due le vittime accertate. C'è una vera e propria corsa per soccorrere due bambini e i soccorritori stanno passando dell'acqua proprio a questi due piccoli sfortunati bambini rimasti vittime proprio del terremoto. In salvo il padre e il figlio di sette mesi. Scossa, come leggete, di magnitudo 4, è evacuato l'ospedale. Intanto la pagina ovviamente fa un refresh, si aggiorna pagina, così come tantissimi altri siti web in costante aggiornamento. Ed è normale che sia così. Barelle con i pazienti all'aperto, la testimonianza. Abbiamo sentito un boato dal mare. E come vedete in basso ci sono anche dei video che raccontano un po' quelle che sono state ore davvero di grandissima e sono ancora ore di grande angoscia non solo per la campagna ma anche per l'Italia. Questo è l'arrivo dei primi soccorritori proprio nel luogo del disastro a Dischia, una città fortemente colpita. E purtroppo non è la prima volta che la campagna viene colpita da episodi di questo genere. E vediamo anche altri video, persone estratte dalle macerie che immaginiamo saranno tante. Purtroppo dopo il terremoto del centro Italia come vedete gli eventi sismici si ripetono nel nostro paese. Ecco qua, veramente sono scene incredibili, persone estratte. Fortunatamente vive dalle macerie, lo ripetiamo in questo momento, come abbiamo letto sono due le vittime accertate. E si scava, si fa di tutto per cercare di soccorrere questi due bambini che evidentemente sono ancora vivi e si sta cercando di metterli in salvo. Passiamo anche, restiamo sul web alle notizie di casa nostra. Notizia della notte, terribile schianto dopo la mezzanotte, lo prendiamo dal sito cityrumors.it, schianto in A14 tra i due caselli di Pescara, tre morti, terribile schianto che si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo la corsia nord dell'A14 in territorio di Pescara. Tre morti dopo l'impatto tra un tir e una vettura. Ci sarebbero anche alcuni feriti, ovviamente l'A14 Bologna-Taranto che è stata chiusa proprio nella notte tra Pescara ovest e Pescara nord in direzione Ancona. Adesso vediamo l'aggiornamento tratto di autostrada che è stato riaperto, incidente avvenuto al chilometro 366 nel quale sono rimasti coinvolti un camion e un'automobile. All'interno del tratto chiuso il traffico ovviamente si era formata una coda, ma lo ripetiamo, tre morti, tre vittime in questo pauroso schianto. Fatte queste ovviamente doverose premesse in apertura della nostra rassegna stampa, adesso sì che possiamo cominciare a leggere i quotidiani di casa nostra partendo dalle prime pagine, dalle quattro edizioni del centro, ma come vedrete la questione terremoto, soprattutto la questione sisma a dischi, la farà da padrona anche sui quotidiani. Partiamo allora proprio dal centro, edizione di Pescara. Questa è l'apertura, muore a 61 anni, punto da una vespa. L'imprenditore Bellia era in casa a Montesilvano, peraltro parente dell'ex presidente del Chieti, stroncato da uno shock anafilattico, davvero incredibile questa storia. Poi la fotonotizia, ovviamente il terremoto a dischi, a crolli, morti e feriti, terrore sull'isola Campana scossa di magnitudo 4 nella notte, uccide una donna, ma come avete visto poi bilancio purtroppo salito a due, almeno sette dispersi e 25 i feriti. Siamo sulla prima pagina dell'edizione di Pescara e allora il richiamo alla crisi in comune non può mancare perché c'è una svolta dopo il rimpasto che sembrava potesse vedere l'uscita dell'assessore Giuliano Diodati e invece si cambia Marco Alessandrini salva Diodati e scarica invece l'assessore Civitarese. Poi ovviamente leggeremo con particolare attenzione all'interno del quotidiano tutti i particolari. Sicurezza, dopo gli attentati di Barcellona e non solo, chiaramente l'allerta è massima, città blindata, barriere in 15 strade. Ovviamente siamo a Pescara. E per il calcio, Pescara è la Serie B che è abbuffata sulle TV locali. Allora ne approfitto per ricordarvi a proposito di Pescara e a proposito di programmi sulle TV locali, lunedì prossimo, lunedì, ci sarà il primo appuntamento con Replay con Enrico Rocchi, trasmissione storica dedicata ai colori bianco-azzurri sempre alle 21, sempre il lunedì sera per tutto l'anno per raccontarvi il campionato che speriamo sia di grande profilo della formazione di Zeman. Andiamo, scendiamo a centro pagina rimanendo sempre sul centro terrorismo, fuga finita a proposito di attentati di Barcellona ucciso il killer. San Sebastiano invece in Abruzzo ecco il paese dell'Orsa Amarena. E poi l'anniversario oggi Pescina ricorda Ignazio Silone. Cambiamo edizione adesso andiamo sull'edizione sempre del centro ma di Teramo. Ovviamente cambia il titolo assalto al distributore con le ruspe. Teramo colpo alla Kuwait con i mezzi rubati alla Team bottino da 20.000 euro danni per 100.000 euro. Nelle cronache le nomine del Vescovo nuovi parroci in arrivo nelle chiese Terramane. Il Vescovo nella foto Michele Seccia. E poi parliamo di area marina che sembra essere minacciata dai fanghi l'area marina protetta del Cerrano. Per il calcio Teramo Martinez vicino la Fermana invece pare voglia Marco Sansovini. Edizione di Chieti punto da una Vespa muore Bellia Chieti l'imprenditore era a casa ucciso dallo shock anafilattico aveva 61 anni a Chieti Stellario giovane colpito ma c'erano 18 vigilanti l'ultima serata dello Stellario nel parco archeologico della Civitella. A Lanciano motociclista lotta per la vita dopo la caduta ripatatina provinciale invece che sarà chiusa per 20 giorni. Chiudiamo le quattro dizioni andando su quella dell'Aquila Avezzano Sulmona barriere di cemento antiterrorismo per la perdonanza all'Aquila domani l'apertura altre misure di sicurezza per questo che è un evento che richiama ovviamente l'attenzione di tanti e di conseguenza anche c'è bisogno della massima sicurezza. A Sulmona testimone vede Piromane del Rogo del Morrone e abbiamo visto negli scorsi giorni quanto sono importanti anche le testimonianze dell'agente comune per risalire poi ai responsabili. Ad Avezzano padre violento fugge con i figli e viene arrestato. Lugo Trasacco lite tra sindaci per il concerto niente meno che di Gigi D'Alessio. Prima pagina del messaggero Abruzzo la ricostruzione accelera post sisma 2016 D'Alfonso al vertice con Gentiloni evitati errori anche grazie a Derrani procedure più snelle bene le zone franche fiscali a ottobre ci saranno casette per 13 comuni andiamo in alto senza riguardo bandito rapina la farmacia e poi ritorna addirittura come come un cliente come se nulla fosse insomma a Teramo commando assalta del benzinaio con la ruspa caccia ai banditi incendi morrone le fiamme avanzano e purtroppo il paradiso verde sembra non esserci più è certo che ci porteremo avanti molte delle conseguenze anche in futuro di questa estate davvero pazzesca dal punto di vista degli incendi Chieti punto da un ape muore un imprenditore Pino Bellia come avete abbiamo letto anche sul centro e poi una notizia di spalla l'andrangheta in Abruzzo vendeva anche armi da guerra a centro pagina rischio attentati la perdonanza è blindata gli organizzatori costretti a reperire in tutta fretta speciali barriere antisfondamento noleggiate dal Friuli Venezia Giulia misure di sicurezza speciali durante gli eventi e poi l'orsa amarena si presenta alla festa del paese a Bisegna l'animale percorre il corso gremito fuggi fuggi ma c'è anche chi non rinuncia magari a farsi una foto chissà se è in grado di farsi anche un selfie con un orsa a proposito prima abbiamo parlato di Teramo andiamo sulla prima pagina della città quotidiano della provincia di Teramo Ruspa sventra una stazione di servizio la banda delle colonnine self-service ruba oltre 10.000 euro al centro commerciale di Piano Daccio ricostruzione post terremoto l'ombra della Boschi al posto di Vasco Errani stasera Campli elegge il nuovo re della porchetta tragedia la mamma uccisa dal tir rientra a Brescia la foto notizia la bufala del calderone il ghiacciaio perenne e tutt'altro che scomparso come era stato era uscito qualche giorno fa la probabile scomparsa del ghiacciaio del calderone di spalla nuovi parroci e parrocchie ecco le scelte del vescovo a Roseto i pali della luce del lungomare invece cadono a pezzi sotto la foto notizia vietato bere acqua a San Giacomo trovati coli batteri ordinato il divieto per l'uso potabile scendiamo in basso perché la serie C domenica potrebbe non partire bloccata dalla protesta del sindacato dei calciatori viste le prime pagine dei quotidiani locali andiamo sui quotidiani nazionali e ovviamente qui ci sarà ancora più spazio per il sisma in campagna infatti partiamo da Repubblica terremoto a Ischia vittime e dispersi scossa nella notte due morti decine di feriti crolli ovunque turisti nel panico si scava tra le macerie a casa micciola le testimonianze un boato dal mare e poi come vedete è caduto tutto a Barcellona l'attentatore riconosciuto da un passante la polizia uccide il killer della Rambla caccia la rete internazionale dei terroristi e poi a centropagina Jus Soli Bergoglio scuote la politica Renzi si muove per salvare la legge poi in basso Guido Rossi e la lotta ai vizi del capitalismo morta a 86 anni Moratti dice era un faro il ghiacciaio perduto dove sciavano le star poca neve chiude lo Stelvio andiamo sul tempo tutti alla sagra dello spreco 7 milioni e mezzo vanno via in feste soldi a pioggia la regione ovviamente siamo sul tempo quindi certamente ci riferiamo alla regione Lazio raddoppia i fondi per le fiere di paese vale tutto quattrini alle proloco anche per bocce folk irlandese ma la terra trema paura ad ischia nella notte terremoto da 3,6 di magnitudo sull'isola una vittima poi in realtà abbiamo visto che negli aggiornamenti purtroppo il numero delle vittime è salito a 2 10 dispersi almeno 25 feriti peraltro anche sulla magnitudo poi c'è una probabile correzione anche se qui c'è il classico gioco dei numeri poi adesso si sta correggendo verso la magnitudo 4 all'inizio era stata definita in 3,6 il messaggero killer ucciso la rete dei complici Barcellona abbattuto l'autista del van della strage indossava una finta cintura esplosiva la polizia cellula sgominata ma è caccia ai fiancheggiatore gli autisti agli aiuti stranieri la pista belga in alto lo sport la Lazio i bianco celesti passo passo con la spalla la Lazio cerca rinforzi la Roma invece pensa a Schick ma perde per infortunio Bruno Peres politica internazionale andiamo a casa Trump l'eclissi più vista di sempre metà America col naso all'insù e anche come vedete 14 paesi interessati da questa eclissi anche il presidente degli Stati Uniti con occhiali speciali per vedere questa eclissi anche la First Lady ma la notizia ovviamente Ischia devastata dal terremoto evacuato l'ospedale un morto scossa di 3,6 gradi blackout e crolli a casa Micciola e l'acqua Amenc vediamo ad Amatrice invece l'orgoglio fra le macerie nozze figli imprese noi non mogliamo è chiaro che sono storie sempre che riguardano il sisma che si intrecciano ovviamente le regioni del centro Italia che ancora soffrono delle conseguenze del terremoto e purtroppo sappiamo bene che anche Ischia potrebbe sta vivendo la stessa situazione che poi in futuro si troverà a che fare con la ricostruzione e non sarà affatto un percorso facile da quello che abbiamo visto anche nelle nostre esperienze quelle regionali la stampa l'artificiere di Barcellona aveva istruito anche la cellula Isis del Bataclan allarme dell'antiterrorismo per 15 sospetti in Liguria finita la fuga del killer ucciso ieri lo conferma la conferma morto l'imam e poi la scossa di magnitudo 4 alle 21 ad Ischia 10 dispersi 25 feriti alcuni sono gravi e ovviamente il titolo principale che troviamo in una zona differente di pagina rispetto a quella dove è collocata di solito il titolo ma è terremoto ad Ischia paura crolli e vittime e sono per il momento due il Corriere della Sera scossa ad Ischia crolli e vittime sisma di magnitudo 4 un morto se ne temono altri ma come vi abbiamo detto sono due per il momento bimbi fra le macerie si scava per salvarli panico e gente per le strade frazioni isolate va giù una palazzina abitata requisito un traghetto per i soccorsi e poi in basso ucciso il fuggitivo della Rambla neppici prove di contatti con l'Isis il terrorista sorpreso dalla polizia in un vigneto il fatto quotidiano in alto l'autista killer si fa uccidere per la falsa cintura a bomba a Barcellona la polizia lo scova a 50 km dalla città lui inneggia ad Allah e poi la scossa ischia sisma di 3,6 gradi della scala Richter crolli e vittime ospedale evacuato i maggiori danni sono a casa micciola a centro pagina il titolo diciamo più grande è quello che riguarda il pronto soccorso horror malati scambiati e interventi sbagliati non solo Antonio i PM perché Scafuri in codice rosso non fu subito operato si chiede il fatto quotidiano andiamo sul manifesto la fotonotizia è il titolo come al solito particolare del manifesto undicesimo ius soli undicesimo comandamento evidentemente con il Papa Francesco al centro della fotografia accogliere proteggere promuovere e integrare all'indomani della strage di Barcellona mentre in Italia si moltiplicano episodi di xenofobia e sgomberi il Papa torna a difendere lo ius soli che il governo ha sepolto sotto la realpolitik della campagna elettorale in alto invece la strage delle Ramblas ucciso l'attentatore ma non è finita la verità ora servono più controlli sugli islamici la ricetta dell'ex magistrato Bruno Tinti non si integrano e non rispettano la nostra cultura servono ispezioni di polizia anche individuali divieto del velo nei luoghi pubblici verifiche sui viaggi contratti e conti correnti espulsione degli imam radicali è un'offensiva per liberare le loro donne e poi Milano come la Rambla indifeso pure il Duomo e poi per la politica Salvini il Papa sbaglia anche gli elettori di sinistra sono con noi sugli immigrati il mattino ovviamente è il quotidiano che dà maggior spazio essendo quotidiano campano al terremoto ischia trema morte e panico crollate almeno sette case una vittima sono due decine di feriti e dispersi sotto le macerie terremoto di magnitudo 4.0 a 5 km di profondità alle 9 di sera epicentro a casa micciola e poi nel commento leggiamo di generoso Picone che parla della lezione che ci ostiniamo purtroppo a non imparare perché ischia non è la prima volta che subisce i danni del terremoto la sera del 28 luglio del 1883 ischia venne devastata dal terremoto che allora toccò il decimo grado della scala mercali e provocò 2313 morti 1784 soltanto a casa micciola tra le vittime furono anche i genitori e la sorella di un filosofo come Benedetto Croce insomma purtroppo a distanza di tantissimi anni però come vedete ischia a casa micciola vengono di nuovo colpiti dal sisma il reportage sembrava una bomba vogliamo lasciare l'isola volge al porto arrivati traghetti straordinari ovviamente tutta la pagina è dedicata al terremoto evacuato l'ospedale Rizzoli pronto soccorso all'aperto e poi in basso invece ci sono anche le altre notizie così gli imam reclutano i baby terroristi dossier in mano agli 007 Barcellona ucciso l'ultimo uomo del commando e poi per lo sport Sarri a Nizza ci giochiamo la stagione stasera il ritorno del preliminare di Champions Mertens è recuperato andiamo adesso sui quotidiani sportivi per vedere prima di andare in pubblicità di vedere anzi prima le previsioni del meteo puoi andare in pubblicità come aprono i quotidiani sportivi nazionali la gazzetta dello sport gran premio Belotti il Monaco mette nel mirino la clausola da 100 milioni soprattutto se dovesse partire Kylian Mbappé destinazione Paris Saint Germain il Monaco potrebbe fiondarsi proprio sul bomber del toro per ora nessun contatto diretto ma sarà decisiva come leggete la volontà del giocatore a fianco un altro uomo mercato come Patrick Schick per tre e orbita Juve ma Roma e Inter duellano sul cieco della Sampdoria intanto per le due milanesi sbarcano Cancelo e Kalinic Salcedo e Pellegri una sfida da 60 milioni tra la Juventus e il diavolo scendiamo a centro palio perché c'è l'intervista al designatore Rizzoli che parla della VAR sempre meglio sempre meno questo è il titolo che sceglie la Gazzetta dello Sport per riassumere il pensiero del designatore degli arbitri leggiamo il sistema funziona ma va usato bene non si può passare al setaccio ogni azione presto le immagini potrebbero essere anche pubbliche come accade per esempio in tanti altri sport cioè gli spettatori possono anche vedere quello che vede l'arbitro sul monitor a sinistra un Napoli al pepe l'anti Ballotelli per la Champions Reina deve difendere il 2-0 dell'andata a Nizza Mario Ballotelli titolare insieme a Wesley Sneijder gli uomini in più di Milan e Inter Perisic e Kessi Milano rinasce con i forzuti del gol il Croato copre segna e risposa l'Inter muscoli e piedi Livoriano vola invece con il Milan e poi addio Guido Rossi traghettola Figgi Citra Calciopoli e il Mondiale 2006 Corriere dello Sport Schick Spacca l'assalto a Gioiello della Samp accende già Roma Inter in programma sabato sera alle 20.45 i giallorossi hanno il Sidi Ferrero e adesso trattano con i procuratori del giocatore ma i nerazzurri non mollano la presa e preparano la controoffensiva Juve avanti con Marchisio una bandiera non si tocca in alto Napoli missione Champions per Mertens a Nizza una sfida che vale il futuro Sarri recupera il Belga e lo rilancia contro Balotelli non giochiamo per i soldi ma per passare il turno e poi leggiamo le altre notizie che fanno parte della pagina tra cui ce n'è una molto positiva di ciclismo ma prima in casa Milan Bebi Cutrone star del Milan guida la carica degli under 20 promosso il VAR all'esordio con due ombre l'addio a Guido Rossi gestì la Figgici sotto Calciopoli e poi eccola la notizia che vi dicevamo la vuelta già sinchina super Nibali che trionfa vedete l'esultanza di Nibali che alza la pinna dello squalo proprio sul traguardo della tappa di ieri chiudiamo con tutto sport che intrigo Juve Roma Inter Schick assalto triplo sono dunque tre le squadre interessate al giocatore della Sampdoria Milan Tiki Taka e possesso palla sembra il Barcellona di Guardiola in basso Napoli a Nizza 20 e 45 il sogno Champions è un passo l'intervista a Nicchi il VAR ha avuto un debutto perfetto mercato tra Borrello e Cagliari un divorzio al veleno ciclismo Vuelta Trionfa Nibali Frum Maglia rossa di leader della Vuelta ci fermiamo adesso finisce qui la prima parte previsioni del meteo e poi torneremo dopo la pausa pubblicitare per entrare sui quotidiani di casa nostra eccoci rientrati seconda parte di mattino 6 per entrare all'interno dei quotidiani e vedere quali sono le notizie principali di casa nostra partiamo con la pagina di Pescara del centro che apre con la violenza dopo la festa il titolo e i picchiatori sono già liberi tornano a casa i ventenni arrestati per aver malmenato un musicista a Torre dei Passeri e nel paese c'è incredulità e preoccupazione il sindaco Piero Di Giulio che vedete nella foto che dice serviva un segnale decisamente più forte dopo questa brutta storia i carabinieri lavorano per individuare altri componenti del gruppo di Bulli si ascoltano i testimoni al setaccio anche riprese e social network durante la notte bianca uno degli arrestati si legge avrebbe preso a pugni un giovane e sarebbe finito in caserma per essere rilasciato poi però subito dopo andiamo avanti misure per la sicurezza barriere in 15 zone a Pescara contro il rischio attentati in arrivo in New Jersey in cemento sulla riviera a Pescara vecchia e in centro il vice sindaco Blasioli dice non ci sono pericoli imminenti ma dobbiamo farci trovare assolutamente preparati in alto Montesilvano allarme e bomba vicino alla stazione gli artificieri fanno brillare una valigia sospetta ma dentro però c'erano solamente dei vestiti secondo arresto per l'aggressione nel tunnel bloccato in Emilia Romagna uno degli indagati per l'omicidio di un senegalese e si cerca il terzo uomo rimaniamo a Pescara per la crisi in comune che sembra vicina dunque ad una soluzione Alessandrini salva Diodati e sacrifica Civitarese rimpasto il sindaco ci ripensa e dà il ben servito all'assessore all'urbanistica per evitare fratture con l'ala dei dimatteiani oggi forse la nomina di Teodoro in giunta e nella foto vedete i tre che sono protagonisti anzi sono quattro il primo cittadino di Pescara Marco Alessandrini con l'assessore Stefano Civitarese che sembra il sacrificato e poi Giuliano Diodati che è stato al centro del rimpasto di giunta e poi Gianni Teodoro che in giunta dovrebbe proprio entrare lo sfogo di Civitarese allora il sindaco mi aveva dato garanzie e non meritavo questo trattamento lo sfogo di Civitarese che ha ricevuto ieri notte la conferma della sua uscita a Via Pepe il palco della festa sfratta il mercato Antonelli di Forza Italia accusa il comune danneggiati sette commercianti ambulanti ora vanno risarciti sempre a Pescara malato di SLA appello disperato alla ASL non fatemi morire carabiniere ed ex comandante dei vigili urbani di Pianella chiede di ottenere un farmaco americano a costo zero e poi scendiamo sempre per parlare di ospedale ma in un altro in un altro contesto nel reparto di geriatria infermiera aggredita dai parenti di un paziente il sindacato che dice occorrono corsi e guardie armate in basso abusiva all'ospedale non è un caso unico dopo la falsa infermiera scoperta dai carabinieri interviene l'IPASVI molti operatori impreparati cambiamo pagina festa del calcio e del vino con la pescara nord alla cantina Bosco Nestore di Nocciano la presentazione della squadra è scritta al campionato di prima categoria noleggiato un bus per tornare a casa e poi l'aton di Borghi a Villa Urania cambio di sculture restituito alla famiglia il cavallo di Aligi Sassu andiamo adesso a Francavilla Palazzo Sirena aperto il cantiere per la demolizione primi interventi sull'ala storica dell'edificio Luciani primo cittadino di Francavilla procediamo nel rispetto della legge gli oppositori dicono invece un disastro da evitare sempre a Francavilla slitta la riapertura al pubblico e polemica sulla piscina impianto di nuovo in funzione da oggi a San Giovanni Tietino ucciso il gattino del condominio l'animale cieco e malato era stato adottato da un gruppo di inquiline e per la viabilità fino al 9 settembre è chiuso per lavori il cavalcavia della A14 a Montesilvano poi cambieremo giornale andremo sul pagino di Pescara del Messaggero Montesilvano dicevamo la protesta i balneatori basta transe prostitute sulla riviera Padovano della Sib Conf Commercio tuona contro il degrado urbano del lungomare e della zona pineta i nostri associati chiedono di lavorare in luoghi che siano decorosi e il primo cittadino di Montesilvano Francesco Maragno elogia gli spazi a 5 stelle allestiti in due spiagge per disabili a centro pagina ha rubato un gruppo elettrogeno non si trova più non si trova il pezzo più pregiato caricato su un camion del Mondavi angolano in basso nuovo sondaggio il sondaggio sul nuovo spazio urbano chiamiamola Piazza del Mare Orsini fa la sua proposta ma non esclude di intitolarla all'Italia a Pianella si ribalta un'auto cisterna sulla strada cambiamo adesso giornale andiamo sulle pagine interne del messaggero Abruzzo per vedere quali sono invece qual è invece l'apertura quali sono le notizie principali del quotidiano proprio che interessano la nostra regione allora andiamo proprio a Pescara perché anche qui l'apertura è dedicata al rimpasto di giunta Civitarese verso l'uscita l'amarezza dell'escluso avvisato dal sindaco per telefono peccato abbiamo lavorato bene e molto c'è ancora da fare Diodati ha fatto valere il suo peso politico e resta assessore Di Pietro cede il posto a Di Carlo ma sono possibili sorprese in alto leggiamo Alessandrini costretto a sacrificare l'urbanistica l'urbanista esperto da lui voluto con forza per il rilancio dell'amministrazione adriatica a Via Pepe palco non rimosso al mercato Antonelli danno per sette ambulanti si torna anche qui sul pestaggio alla stazione due sono gli arresti un senegalese la vittima ieri la polvere risalita agli aggressori tutti romeni e poi la valigia abbandonata vicino agli autobus a Montesilvano allarme e bomba ma poi come abbiamo visto all'interno c'erano solamente dei vestiti ma è chiaro che l'allerta è molto molto alta a Pescara rapina la farmacia e poi torna da cliente la Tiburtina nel mirino domenica per la seconda volta in tre giorni la polizia studia le immagini delle telecamere un uomo che si è presentato al banco per un farmaco sarebbe stato riconosciuto come il rapinatore della sera prima quindi insomma a distanza di poche ore si è ripresentato facendo finta di nulla in basso un'infermiera aggredita e insultata a geriatria il sindacato Nursind denuncia l'ennesimo caso di violenza in corsia all'ospedale Santo Spirito sotto accusa il sovraffollamento dei reparti e l'eccessivo carico di lavoro degli operatori rimaniamo a Pescara area metropolitana ai Cucinotta abbiamo dato una casa i coniugi da oltre due mesi accampati in Piazza Italia il sindaco di Alanno chiarisce la posizione del comune pezzi li abbiamo ospitati in hotel pagando 22 mila euro e si è stimato un alloggio se non ci abitano lo perderanno la replica pronti ad andare via se ci pagano i danni adesso andiamo all'Aquila poi faremo ping pong tra i due giornali perché il rischio attentati fa in modo che la perdonanza risulti assolutamente blindata predisposte eccezionali misure per rafforzare la sicurezza arrivano speciali barriere noleggiate dal Friuli Venezia Giulia città praticamente sotto assedio sia durante il corteo della bolla sia durante la cerimonia di accensione del tripode a San Bernardino e di spalla la porta santa griffata da cavallo ed Emanuele in basso piazza Duomo la serata delle donne ospite d'onore la cantante Fiordaliso sempre all'Aquila auto dalla Germania per evadere l'IVA rischiano in 700 sono gli acquirenti delle vetture già finite nel mirino della finanza dovranno dimostrare la loro buona fede per aver acquistato queste automobili dalla Germania altrimenti scatterà l'accusa di falso intanto il filone principale dell'inchiesta come vedete continua a fare dei passi in avanti e poi in basso a Roio rimaniamo dunque sempre all'Aquila gli investitori non si fanno più avanti Rotonda e Chalet sempre più in degrado nelle due strutture vecchi arredi e montagne di rifiuti Morrone l'incendio purtroppo che fa in modo che il paradiso verde non ci sia più continuano a bruciare i boschi per i roghi appiccati sul monte trovati gli inneschi in azione forse persone molto esperte in fiamme in 48 ore circa 60 ettari di vegetazione colonna di fumo sulla città dove è difficile davvero respirare è sempre a proposito di roghi piromane tenta di distruggere a meta le antenne delle tv e dei telefonini adesso andiamo torniamo all'Aquila ma per vedere quello che è il la pagina del centro che apre invece non con la perdonanza ma con la cronaca padre violento fugge con i figli arrestato dopo l'inseguimento il giovane bloccato dai carabinieri la donna e i bambini di 3 e 4 anni portati in un luogo sicuro e un 50enne allontanato da Pescina botte a moglie e suocera per comprarsi alcol e sigarette e poi questa polemica tra due tra due paesi come Trasacco e Luco dei Marsi paesi in lite per Gigi D'Alessio il concerto divide i sindaci sui controlli di sicurezza Quaglieri la prossima volta daremo noi la piazza torniamo adesso cambiamo città andiamo a Chieti e poi torneremo sempre a Chieti ma sul messaggero sgomento davvero in città punto da una vespa muore bellia l'imprenditore era a casa in pochi minuti è andato in sciocca anafilattico aveva solamente 61 anni leggiamo anche quelle che sono le analisi all'interno il precedente un mese fa a Colle di Mezzo vittima un giocatore di rugby di 36 anni Rosario Romele che a luglio aveva purtroppo avuto la stessa la stessa situazione e poi reazione allergica al morso degli incendi il fattore tempo gioca in questi casi un ruolo basilare e allora leggiamo rapidamente in caso di sciocca anafilattico la prima cosa da fare è allertare immediatamente i soccorsi sanitari in attesa del loro arrivo la persona deve essere posta nella posizione antisciocca vale a dire supina con le gambe sollevate di circa 30 cm con l'aiuto di una sedia queste sono istruzioni nel caso dovesse purtroppo accadere di essere punti da un insetto ma torniamo sulla vicenda di Bellia ieri mattina doveva partire per affari per Istanbul quando si è imbattuto nell'insetto ha sentito dolore ha cercato informazioni su internet su da farsi ma non ha fatto in tempo a fine anni 90 l'allora sindaco cucullo lo volle in squadra come delegato allo scalo compito che svolse in maniera gratuita funerali domani al Santissimo Crocifisso sempre a Chieti Stellario c'erano 18 vigilanti giovane colpito da un pugno parlano gli organizzatori della serata e poi a Lanciano motociclista lotta per la vita è caduto mentre faceva cross a Roccaraso ma si è rimesso in sella andiamo a vedere invece le pagine di Chieti sul quotidiano il messaggero pugno in volto dopo una spinta ma lo studente non ricorda nulla il giovane dimesso con prognosi di sette giorni senza la sua querela l'indagine non parte parla l'amico tutto è nato da una spinta durante il ballo aggressore una descrizione alto e robusto e poi l'allarme rogo a colle Sant'Antonio in zona c'è sempre paura ovviamente ha oltre due anni dall'incendio doloso nella discarica nulla è stato fatto per bonificare l'intera area e poi le spine panchine rotte rifiuti villa comunale che è nel caos la tragedia punto da un calabrone muore in casa Pino Bellia che vediamo in foto e abbiamo ricordato anche come avesse fatto parte della giunta cucullo adesso restiamo sempre a Chieti e provincia ovviamente andiamo a Lanciano borgo tra degrado e furti in serie casse assaltate dai ladri mentre i proprietari sono in ferie ultimi casi denunciati alla polizia dai residenti spaventati una donna riesce a mettere in fuga due malviventi lo sfogo non mi sento sicura vendo l'appartamento e invece pupillo per la costa di Trabocchi che dice boom turistico ora serve una rete tra i comuni a Teramo commando assalta il benzinaio con la ruspa e caccia i banditi maxi colpa la quitte di piano d'accio divelte le colonnine del self service in azione forse dieci malviventi viede accesso bloccate con i camion scuole lavori in corso in sette istituti superiori questo per il post sisma il presidente della provincia Renzo di Sabatino dice l'obiettivo è quello di portarli a un indice di vulnerabilità sismica superiore a 0,65 purtroppo piromani anche a Villa Castellana ci sono due sospettati in basso in 400 per la tendopoli di San Gabriele si parte alle 18.30 con l'inaugurazione del vescovo seccia e del superiore generale dei passionisti cambiamo adesso andiamo a Giulianova Roseto Val Vibrata ma nello specifico a Giulianova notte bianca risveglio con polemiche dopo il comunicato del sindaco che parla di grande successo continua lo scontro tra gli organizzatori e i commercianti non mancano le accuse tra gli schieramenti sul reincarico ottenuto da Ciccolone mentre Capriotti sta con Costantini a Tortoreto cani randaggi e strade dissestate tanti disagi per residenti e turisti segnalati anche nel web la presenza di animali randaggi e a Roseto invece cade un palo della luce tragedia sfiorata abbattuto dal vento e precipitato sulla pista ciclabile del lungomare per fortuna senza causare danni e avrebbe potuto farne davvero cambiamo adesso andiamo sulle pagine del di Teramo del quotidiano il centro assalto al distributore con le ruspe Team rubano i mezzi dal deposito e distruggono la stazione di servizio del centro commerciale danni per 100.000 euro e insomma le foto sono abbastanza esplicative di quello che è accaduto ieri a Piano Daccio ancora cronaca uccisa dalla ruota venerdì funerali a Brescia l'ultimo saluto alla 31enne incinta morta sulla A14 a Tortoreto Gloria Durante a Isola del Gran Sasso via la Tendopoli dei Giovani al santuario di San Gabriele per entrare in particolare sulle questioni che riguardano Teramo e ovviamente la provincia andiamo sulla città stazione di servizio sventrata con la ruspa colpo notturno al distributore Kuwait nei pressi del centro commerciale come vedete rubati più di 10.000 euro e per la questione scuole sicure a Teramo protestano anche i genitori ascolani ad un anno dal terremoto i comitati chiedono un'accelerazione per l'adeguamento degli edifici per la politica invece e caccia la tessera verso il congresso PD il segretario Minosse è certamente in campo per la riconferma orlandiani ed ex verticegliani che sarebbero corteggiatissimi e poi la bufala d'alta quota come dice il quotidiano la città il ghiacciaio del calderone è vivo e lotta insieme a noi come un famoso coro da stadio l'alpinista Davide Peluzzi smentisce la scomparsa del ghiaccio circolata per l'ennesima volta a Ferragosto emergenza idrica batteri nell'acqua vietato bere a San Giacomo il sindaco di Valle Castellana ne vieta il consumo potabile rubinette a secco a Tortoreto e a Martinsicuro per la cronaca o imprenditore di Sant'Egidio investito da un'auto mentre va in bicicletta adesso prima dello sport andiamo a Giulianova comune parte lesa nel caso Castrum Arboretti chiede al sindaco Mastromauro di costituirsi parte civile per il processo la città dice è stata citata dal giornale il fatto quotidiano in un articolo sul malaffare italiano adesso leggiamo le pagine di sport partendo ovviamente dal Pescara e dalle trattative di mercato Golubovic è un giallo Pigliacelli rinnova il serbo ex Roma che sembrava davvero a un passo dal bianco-azzurro non ha ancora trovato l'accordo con il Delfino allora leggiamo in maniera più approfondita il portiere Pigliacelli in bianco-azzurro fino al 2022 l'esordio col Foggia e vicino Zeman e Sebastiani a cena con la squadra e poi guida i palinzesti il Pescara e la serie B inizia la grande abbuffata la retrocessione non scalfisce l'interesse per il Delfino e bianco-azzurri restano al centro delle programmazioni televisive con tanti talk show e approfondimenti ovviamente anche sulla nostra emittente come vi ho accennato prima con il nostro Enrico Rocchi che vedete che da lunedì sarà in onda con Replay Andiamo in Lega Pro per parlare di Teramo Teramo Martinez la firma è vicina Fermana su Sansovini si stringe per il francese Tittarelli potrebbe salutare scontro Figgici Asso Calciatori c'è il rischio di sciopere in serie D in serie C pardon in serie D l'Aquila a caccia di giovani talenti De Santis invece giocatore molto interessante rimane al San Nicolò Eccellenza Di Francia e Torelli sono ad un passo dalla Miternina Andiamo adesso sulle colonne del Messaggero per vedere come si parla del Pescara e c'è un'intervista a Fabio Lupo attuale direttore sportivo del Palermo che è una delle formazioni che contenderà una delle formazioni più accreditate con il Pescara cui contenderà probabilmente la serie A ex direttore sportivo del Teramo che dice sarà un Pescara da corsa ha costruito una squadra su misura per il suo allenatore era così anche l'ultima volta e poi sapete come è andata a finire Capone e Latte Latte due talenti del sole può essere la rivelazione della serie B su Embalo si deciderà in extremis e poi come avete letto potrebbe saltare l'ingaggio di Golubovic leggiamo giallo Golubovic l'acquisto del terzino serbo annunciato qualche giorno fa dal club bianco-azzurro rischia di saltare al momento non c'è accordo con il difensore dal punto di vista economico in vista della gara con il Foggia difficile il recupero di Leonardo Mancuso quindi potrebbe essere assente per l'esordio in campionato campionato che rischia invece di slittare in serie C e quindi anche per il Teramo interlocutorio l'incontro di ieri tra Gravina presidente di Lega e l'associazione dei calciatori e poi l'Europa che si inchina a un super Nicolai il nostro Nicolai campione d'Europa di nuovo insieme a Daniele Lupo abbiamo voluto con forza il titolo di beach volley ovviamente abbiamo voluto con forza il titolo continentale per riscattare un mondiale deludente vincere con la squadra di casa speciale il mio pregio gestire bene la pressione un fenomeno si legge nato in palestra ad Ortona Paolo Nicolai 29 anni compiuti il 6 agosto Ortonese torniamo sul calcio Pineto ancora frenato ad Amaolo serve tempo con tanti volti nuovi il tecnico deve trovare ancora gli equilibri ovviamente parliamo di serie D Francavilla invece notizie positive buon inizio malgrado le assenze il Neo DS Marino qui c'è un progetto dice per fare davvero delle grandissime cose ancora serie D l'Aquila ottime sensazioni sul campo ma ancora troppe tensioni peraltro c'è stata l'ennesima contestazione alla dirigenza da parte dei supporters arrivati a Pineto nero stellati indicazioni positive malgrado il KO proprio con il Francavilla di Ruocco dice potevamo gestire meglio il vantaggio ma la squadra sta crescendo a proposito di sport chiudiamo sempre con la Lega Pro perché la C e andiamo sulla città non parte per colpa delle liste over l'associazione calciatori conferma lo stop ai campionati ma giovedì c'è l'assemblea di Lega e nulla è ancora escluso e i fronti che erano tre adesso di fatti tre fronti di scontro erano tre adesso si è ridotto a solamente uno i fronti erano i mancati ripescaggi lo spostamento del controllo sui pagamenti e le liste dei giocatori nati prima del 95 ora è solo l'elenco dei 14 a far rischiare di far rinviare l'avvio previsto per domenica con questa notizia noi chiudiamo la rassegna stampa di mattino 6 ma ovviamente continueremo a tenervi informati con la prima edizione del nostro telegiornale che va in onda puntuale alle ore 14 per il momento è tutto buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.